Ciao ragazzi, oggi andiamo a rispondere ad una precisa domanda che ci ha fatto un ragazzo che ci segue, si chiama Stefano. La domanda è come aumentare forza e ipertrofia in un atleta donna. Siamo pronti? Innanzitutto la scelta degli esercizi dipende da due principali fattori. Il primo è che sport fai, a che tipo di sport ci riferiamo. Un programma di allenamento ovviamente per essere ottimale deve essere cucito sulle tue esigenze. In questo video ti mostrerò quindi degli esercizi globali che poi ovviamente starà a te adattare al tipo appunto di sport che fai e al tipo di obiettivo che ti sei posta. Per raggiungere poi dei risultati ottimali dovrai seguire una periodizzazione ben precisa. Il secondo punto è che diventare forte non significa necessariamente diventare grossa, soprattutto se sei una donna. Quindi le cose sono due, possiamo scegliere tra due strade. Se il tuo obiettivo è quello di diventare solo forte, allora le basse ripetizioni con alti carichi fanno il caso tuo. Se invece il tuo obiettivo è quello di diventare forte e di aumentare visibilmente la tua massa muscolare, allora oltre alle basse ripetizioni con alti carichi ti suggeriamo anche di aggiungere le medie e le alte ripetizioni. Questo perché? Perché andremo a colpire tutte le componenti del muscolo e andremo a fornire tutti gli stimoli necessari per la sua crescita. Detto questo andiamo subito a vedere quali sono gli esercizi tipici per aumentare la nostra forza che puoi effettuare tranquillamente in sicurezza. Nel primo esercizio che è la panca piana andiamo a lavorare sul nostro pettorale, il tricipite e sul deltoide anteriore. L'unico consiglio che mi sento di dare in prevalenza è di cercare di tenere le scapole ben addotte e depresse per evitare e per prevenire eventuali infortuni alla spalla. Cerchiamo di tenere anche bene i polsi in linea con gli avambracci. Questo secondo esercizio andremo a lavorare sul grandorsale, sul bicipite, sul romboide e sul deltoide posteriore. Può sembrare dalla mia esecuzione un esercizio macchinoso ma lo sto semplicemente eseguendo così per farvi vedere di cercare di anche in questo caso addurre le scapole prima di tirare dal gomito il nostro peso come nello stesso caso di prima per prevenire eventuali infortuni. Nel terzo esercizio andremo prevalentemente invece ad utilizzare deltoide anteriore e mediale, la porzione esterno clavicorale del pettorale, il tricipite e il trapezio. Cerchiamo di mantenere i polsi allineati con gli avambracci. Il quarto esercizio è un classico pull up eseguito con una banda elastica ma se non ce l'hai puoi tranquillamente farlo sulla macchina assistita. Anche in questo caso lavoriamo in prevalenza il gran dorsale e tutti i muscoli della schiena, il bicipite e il tricipite. Ho preferito utilizzare una preusa neutra in quanto dovessimo parlare se sei un soggetto poco forte o comunque agli inizi. Un esercizio molto classico sono i push up che nel senso ok che abbiamo messo la bench press all'inizio però sono un esercizio molto completo fondamentale per la forza e che coinvolge anche il core quindi è molto più completo. Un altro esercizio appunto senza l'utilizzo di carichi massimali è la medicine ball slam in cui è molto utile per allenare la forza esplosiva. Anche il prossimo esercizio sarà molto molto simile in cui però cercheremo appunto come puoi vedere di utilizzare non solo le braccia ma anche la rotazione parziale del tronco e l'utilizzo della spinta delle gambe. Speriamo che questo video sia stato d'aiuto a tutti non solo a Stefano e aspettiamo altre vostre richieste per altri video. Ciao!